Mi rispieghi un attimo come la pensavi sull'Africa? Te l'ho già spiegato, mamma mia. E non l'ho capito bene. La soluzione drattica. Per quale problema? Per me, per la fama del mondo. Cioè, come risolvere il problema della fama del mondo? Esatto. E tu come lo risolveresti? Ultima, magari bombe nucleari sull'Africa. Ah. In modo che tu elimini il problema direttamente, no? Se non ci sono quelli che hanno fame, non c'è il problema della fame. Che ammazzi tutti, così non c'erano più fame. Esatto, non c'è più fame. Ti devono poi ringraziare, perché dicono adesso non c'è più fame. Beh, non potranno ringraziarmi, però non pensi a lì. Vabbè, ci devono provare. Se no, altrimenti ti fuggi proprio tutto. In effetti è giusto, cioè, così non mangerò più, non c'erano più il problema della fame, e uccidiamo tutti quelli che hanno fame, insomma. Così elimini il problema della fame. Sì. Hai ragione. E' il continente deserto, poi non ci fai niente, non lasci lì. Ma che? Che c'è fai? Oddio, aspetta. Rubi il petrolio. Eh no, c'è il problema delle scorie nucleari. Ah, che palle. E' troppo per mandare un po' di gente in tuta, quello qui. Ah, sì, mi culo un po' tutto. Vabbè, dipende, aspetta. Non è che uno elimina tutti quelli che sono una fame nel mondo, cioè che causano la fame. No. Grappatiscono, ecco. Non uccidi tutti. La gran parte sta nel corno d'aprio, no? Eh sì. Quindi mazzi tutto il corno d'aprio, non c'è tanto petrolio. E poi tutti gli ingressi, tra lì, sfrutti per il petrolio. Ok, capito, va bene. Però aspetta. Eh. Secondo te che c'è anche l'Asia? Ah, già l'Asia, che palle, c'è molta fame là. Dipende, in Cina e in Giappone mangio la padechina. Uh-huh. Però gente tipo India, Pakistan, Africa, ancora... Tutto giù, buttiamo giù tutto lì. Non l'Iran, però. Non l'Iran, non... E' tutto petrolio. Vero, poi si salta per ora il tuo cazzo. Beh, l'Occidente, se avranno l'Occidentale. Altrimenti dovrebbe essere distrutta. Sì, l'Iran. Eh, tutto c'è un'Occidentale che deve essere distrutta, no? Vabbè. Uh-huh. Viva il Cè. Davvero? Sì. Ah. Anche lui amava da morire il terzo mondo. Zocchi!